Yo! Yo! Sono Yo Malello! Eccoci. Infatti oggi si fa un grande gioco. Il miglior gioco di sempre. Il grande baladro. Ah! Praticamente devi fare dei punteggi e superare questo punteggio che ogni volta esce qui per andare avanti. E per farlo sblocchi delle robe che ti danno cose. Inizi con due copie ed è il matto. Ma sono matto? Vabbè, cala sta doppia coppia. Dai, va bene. Questo gioco, non ci capirete ancora. Vabbè, caramon full. Allora, carta più alta. La probabilità su due di creare un tarocco quando abbia una bustina di espansione qualsiasi, no? Abbiamo un'arcana pacca. Vai. Possiamo giocarcela sui cuori. Cazzo, il negozio è un jolly poligromo. Eh, tocca piallo questo. Fatemi fare un attimo una giocata. Tre... Facciamo quattro... E facciamo cinque. Un, due, tre, quattro, cinque colore. Ok. Un, due, tre, quattro, cinque. Abbiamo un altro colore. Che gioco è? Il gioco più bello di sempre. Seicento spaccati. E più vai avanti, più soldi richiede. Teniamo sì le picche. Ovviamente ti dai cuori. Ottimo. Impossibile ricevere delle picche. Dai, buono. E in base alle cose che fai del poker, guadagni dei punteggi che ti danno dei bonus, eccetera, eccetera. Tipo, mo' siamo unculati. Ma sta run è già da resettare. È una merda. Nuova sessione, va all'inizio. Le carte spettrali possono apparire nel negozio e inizi con una carta maledizione. Questo non ho mai provato. Fortissimo, porco Dio. Iniziamo con un policromo. Fortissimo. Allora. Semi come so. Quattro cuori. Andiamo a pescare un cuore, va. Ovviamente, impossibile. Un, due, tre, qua, cinque. Vai. Kjack977. Vabbè, basterà, dai. Farà 40 punti. Niente, fammo economy. Dopo aver sconfitto il boss guadagni 15. Mi piace saltarlo, vai. Tanto 600 gli adoremmo fa. Qui, secondo me, giochiamo queste. Triss. Andiamo a pescare una donna. Poker di gappa. Droppa sto poker di gappa, va. Ci abbiamo 32, ok. Le carte giocate con seme e fiore danno più 4 moltiplicatore quando assegnano punti. Ok, questo è interessante perché potremmo farlo policromo e possiamo fare una build colore fiore. Dio, direi, fa sta giocata. Mi prendo pure questo. Ha droppato il giupiter, buono. Sarebbe da piallo un fiorellino qua se sbuca. Mi sembra, apro pure questo. Un fiore base se lo vediamo, dai. Raddoppio i tuoi soldi. C'è un altro jolly poligromo qua. Ok. Bello, manco un fiore, dai, buono. Ah no, ce l'avevo uno. Ce l'avevo. Ok. 8, 7, 6, 5. Podiamo fare tipo scala reale. Con un jolly solo stiamo già messi umanamente. Cazzo, il jolly poligromo è da saltarsi, è troppo forte. Dai, muovi. Andiamo a cercare i fiori. Oddio mio. Eccoli qua. I fiorellini. Marti, 3.000. Boni. 10 mollù. Cazzo, questo è buono. Io muovo più. Però ci serve pure far soldi. Stiamo a giocare con un jolly solo. No, no, dai. Tanto tutti quelli che ho visto rari sono a merda ogni volta. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ci sono più carte dei fiori. 3.900. Eh, stiamo a cominciare a boccheggiare. Oddio, che schifo. E comunque lo devo comprare perché è per 1,5. Certo, fa veramente schifo. Cambio il buio, no? Ah, manco un fiore. Vabbè, ci ha dato sto colore servito di picche. O tiravo per il meme. Mamma mia, se non è il colore dei fiori fa morire. Se non è il colore dei fiori fa morire. Se non è il colore dei fiori fa morire. Eh, questo è un problema, io te lo dico. Porco Dio. C'erano due fiori. C'è un triste donne, però. E se fa quanto orco? Oh, c'è pure il full. Però il full è più scherzo. Ci conviene giocare. Lo sai che forse è quel triste? Se veda capì questa nascosta, che cazzo è? Facciamo il colore. Dovrebbe bastare. Ok. Niente, prossimo round. Arti due tarocchi. Bello! Manco un fiore. Sprechiamo se è una mano. Tre fiori. Cominciamo a pulire qua. Cinque fiori. Eccoli. Ah. Ok. Il nostro colore non basta più. Ci serve dell'altra roba. Perché il colore dei fiori non basta più. Ma non c'è un gioco. E ora non sto a vedere. Ma che cazzo stiamo a giocare fa? Vabbè, coppia le dieci dai, basta. E' doppia coppia. Stavo messi male, cavo. Non ci ha dato niente. Più cento fish se la mano include una scala. Boh. Cioè questo mo' c'è una mano in meno fissa. Però vai di un ante indietro. Quindi ti buildi ancora un po'. Quindi io pensavo che ti mando un ante avanti con una mano in meno. Dicevo, ma che cazzo serve? E' una merda. E allora mi sa che ci tocca via questo. Potremmo pure via una carta pianeta. Buono il Jupiter. Ma infatti mo' siamo tornati dietro. Oh, questo se schippa. So... Mi via. Mi via. Quattro. Ci dobbiamo buildare, cavo. Ci dobbiamo buildare. Ah, neanche così vinco? Ah. Ah. Andiamo a sperare pescare un fiore, cavo. Il fiorellino arriva. Ah, perché c'è la cosa di mezzato. Ok. Allora, 30 molluri. Così ci possiamo riprendere la mano che abbiamo perso. Però ti posso dire, secondo me... Sto a 10 buttati. Tipo pure aggiungere se è un fiore. Se esce. Ecco, il cazzo che è uscito. Però questo è multiuso. Quindi va bene, dai. Dai, fanno prossimo round. Sì, ma continua a non uscirci jolly. E' incredibile. E' incredibile sta cosa. Un, due, tre, quattro, cinque. Potremmo fare addirittura scala reale, tipo. Dovrebbe bastare. 6.000 dovremmo fare. 8.000. Oh, il mezzo è più studioso. Così magari se gioca monasso fa qualcosa. Il prezzo iniziale dei cambi nel prossimo negozio è zero. Allora. Andiamo comunque a cercare il nostro colore. Un, due, tre, quattro. Ah. Vabbè, teniamo sta coppietta. Vai. Eh sì, io ne conto sto giocando, capito? Ho inventato. Aggiungo il vero di vendita a tutti i gialli a sinistra di questa carta a moltiplicatore. Oh, questa non è male. Tutte le carte riguardi sono penalizzate. Le distruggo. Vai. Un, due, tre, quattro. Ce la faremo? Chi sta? Preciso... Preciso al millimetro. Continua a dare la stessa merda. Dammi in Jupiter, va. Grazie. C'è la coppia? Niente. Questo non è male. Skippiamo? Per un gialli poligromo? Però ci servono i sordi. Allora. Un, due, tre, quattro e cinque. Vai. 13.000. Ogni carta giocata assegna punti inutile. Carte pianeta, carte da rocco. Faccio in Jupiter, dai. Buono. Abbiamo pure in tarocco. Va, tocca comincia a spennere. Oh, però potremmo fare tre fiori. Se fiamo tre pezzi grossi. Vai. Un, due, tre, quattro. Un, due, tre, quattro, cinque. Proviamo un artero. Ok. Vai. Ok, stiamo cominciando a buildare, capo. Oddio, potremmo spendere tutto e farsi un jolly raro casuale. Dai, famo sta giocata matta. Che so' ci ha dato? Ogni re tenuto in mano dà per 1,5 moltiplicatore. Il barone. Dopo gioco scatta peschi sempre tre. Devo scartarne due, diva. Però, ma che cazzo è sta roba, porco Dio. Questa è tanta soldatoia. Ok. Ce dovremmo, so. Ok. Tocca fa soldi. Due pianeti, no. Ok, vai. 23 kappa. Quel kappa tenuto in mano. Tocca dove un Jupiter. Eccolo qua. Buona. Non ne ha dato a mezzo, porco Dio. Questa conviene fa' così, in teoria. Vediamo un po'. 48 bombe. Inutile, inutile. Tocca aprire il pacchetto spettrale, capo. Applica un effetto foil. Ora, poligromo, una carta selezionata. Seppra famosa, bella donna. Scarta due carte casuali per mano giocata. Ok. Fionda. Questo lo devo scartare, caro. Ci mancano troppe carte. Ok. Potremmo scartare ancora. Tanto dobbiamo proprio fare un one shot. Per kappa se lo teniamo. E tocca giocare se... Ah no, è una picca questa, porco Dio. Tocca. 60 bombe. Boner Jupiter, compra. Volevo provare circa due jolly boni. E contando che abbiamo la cosa che poppano, secondo me si apre questo. Ci ha dato quattro comuni. Ma fanno tutti schifo. Questi sono tutti da schippare. Che inculata. Sì, qua se abbiamo i sordi. Il negozio è un jolly olografico. Tre... Conta ce nemmo tre... Ce nemmo sette carte. Andiamo a sei, è tragica. Perché rimane così? Ok. Dovrebbe bastare. Eh, ma stiamo sempre lì. Che ci spieghiamo, eh. Vediamo se c'è da un fiore. Un bel quattro base. Vediamoselo. Niente tipi di mani ripetuti in questo round. Questo dobbiamo fare one shot. Tutta dei colori l'abbiamo perso. Quindi tocca abbaffarsene un altro po'. Mamma mia. Vediamo di cercare la mano perfetta. Lì o è tragica. Eccoci qua. Ok. Quindi qua giochiamo questo, questo. Questa non la vorrei spaccare, eh. Però dai, ti pare che se spacca. 66.000. Oh, questa fa tre fiori. Compra. Io farei sta giocata. So, spariamo subito questo. Ma mi ha spaccato la fiori o sbaglio? Ci ha fatto sta merda. Senti, queste secondo me si potrebbero giocare. Perché tanto non possiamo ripetere le mani. Devo cercare di fare una mano pazza, capo. 9, 8, 7, 5, 4, 3. Qui ci conviene fare questo, 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 questo e questo. E andavo lì in. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questa saperemo perché è più 1,5. Dai proviamo. Ci ha dato un bel jack. Vabbè, che è un punticino in più. Vai. E il 4, secondo me, mo ce l'ho troppo. An 4, no? Tocca giocare a questa e pregare. Ma porco Dio. E niente, il colore non lo posso rigiocare. E ho perso. Rip. Rip, eh. Finisce qui. Rip.